La pizza al taglio a Chioggia si chiama Pizzeria da Leo. Da più di 40 anni, Leo impasta, prepara ed integlia con abilità magistrale una pizza unica ed inimitabile. Chi ti ha insegnato a fare la pizza? A Roma nel 1960. Provenivo dal fornaio prima e ho cambiato, mi sono messo a fare la pizza. Eccomi qua e ancora la faccio. Come mai sei arrivato a Chioggia? Venivo via da Verona perché a Verona mi era andato male l'attività sul lago di Garda. Sono arrivato qua sotto Marina e ho trovato la fortuna. La bontà della pizza di Leo, il suo gusto particolare, la sua straordinaria crocantezza, non possiamo descriverla con la nostra telecamera. Unico modo di scoprirla è quello di gustarla. E dopo il primo boccone vi accorgerete subito che la pizza di Leo è diversa da tutte le altre. Sarà la scelta selezionata degli ingredienti, la cura minuziosa ed amorevole con cui è preparata, l'attento controllo dei tempi di cottura. Fatto sta che quando la pizza di Leo esce dal forno nella sua tradizionale teglia rettangolare, è proprio uno spettacolo, un trionfo per gli occhi e per la gola. Leo, qual è il segreto della tua pizza? La passione di 50 anni di lavoro, di esperienza. Materie prime, buoni, non roba che non vale. E si vede, si vede perché io sono 42 anni che sono qua e ho sempre il locale pieno. La tradizione nell'arte di fare la pizza, l'esperienza di più di 40 anni di attività, uniti alla cortesia e alla simpatia di tutto il suo personale, fanno della pizzeria di Leo uno dei locali più conosciuti ed affermati della nostra città. Una grande squadra al tuo servizio, per accontentarti con rapidità e capacità, anche per accompagnare la pizza con un'ampia scelta di bibite sempre fresche alla spina ed in bottiglia. Da Leo, una fetta di pizza tira l'altra. E se vuoi cambiare, ci sono le sfiziose piadine, preparate con la tradizionale pasta romagnola, che puoi gustare con ampia scelta di farcitura. Pizzeria da Leo, è sempre una delizia per il tuo palato. Pizzeria da Leo, è sempre una delizia per il tuo palato.